musica bene, buonasera dunque, vediamo un attimo questo script per realizzare un movimento di pezzi vedete che ho fatto una scacchiera in cui ci sono dei token che devono muoversi verso delle direzioni su cui posso cliccare, allora il concetto è molto generale, quindi adesso vedrete che in realtà questo qui se lo vedete è un oggetto con tanti prim, sono 25 prim linkati, di cui in giallo vedete è quello più il link root, cosiddetto e quello che contiene il tabellone, mentre gli altri sono delle pedine o delle posizioni su cui muoversi quindi vedete che le categorie di oggetti in gioco sono diverse c'è il tabellone principale su cui è disegnato, vedete, una certa texture su questo tabellone io ho ricavato una serie di prim di posizione che sono vedete, questi qui sono semi trasparenti sono dei piccoli parallelepipedi che disegnano delle posizioni di arrivo se clicco su questa posizione di arrivo vedete che si illumina per farmi vedere che è una posizione di arrivo quindi devo prendere una cornice e spostarla lì entro 10 secondi cliccando sulla cornice vedete che si spegne la cornice si sposta io posso anche quindi qui sono due, quattro, sei, otto posizioni di arrivo e qui ci sono otto token e qui ci sono otto posizioni di partenza io posso anche cliccare una posizione di partenza di nuovo, vedete che si illumina e rimettere a posto l'oggetto in questo modo oppure posso fare operazioni multiple tipo questa qua vedete quindi posso muovere liberamente in maniera perfetta le cose oppure posso anche prendere delle nuove immagini e ottenere insomma questo effetto l'effetto luminoso si nota bene qui perché sono al tramonto se fossi invece col sole a mezzogiorno vedete che è già tutto luminoso a meno che non abbia un riparo però qui non si capisce bene così il luminato anzi appare al contrario quindi è opportuno se si vuole vedere questo effetto mettere all'interno di una casa quindi all'ombreggiato oppure usare un tipo alba vedete che c'è l'alba che sta sorgendo oppure addirittura la notte mezzanotte in cui c'è l'illuminazione notturna a quel punto lì vedete che si vede molto bene le cose su cui voglio dipingere qui un piccolo difettino se si cliccano contemporaneamente due cose magari lo fisso un momento comunque qui se io clicco invece il tabellone e faccio il reset tutti i token tornano a casa vediamo che si vede meglio all'alba ad esempio ok perfetto allora adesso vediamo un secondino lo scriptino così composto che poi in realtà lo script è generale faccio vedere solo molto velocemente quindi lo script è composto da un unico script che governa tutto nella root e poi dentro c'è una serie di cose fondamentalmente questo qui è fatto per 8 8 pezzi, 8 token che si muovono c'è delle modalità per accendere o spegnere questo script va modificato leggermente se invece di 8 ce ne fossero di più o di meno di pezzi quindi non è ancora generalizzato ma è facilmente generalizzabile se ci fossero ad esempio 32 pezze qui bisogna mettere 32, 32 e poi eventualmente trovare dove c'è l'8 qua ci sono diversi pezzi in cui c'è 8 e su questi praticamente adattarlo eventualmente lo posso fare su richiesta dicevo qui il trucco è oltre a linkare insieme i pezzi e avere e costruire questi pezzi linkati quindi andiamo su modifica parti collegate qua quindi questo qui è un pezzo linkato questo qui è la posizione di destino target diciamo e la caratteristica di questa posizione di destinazione è che si chiamano con una T maiuscola e un numero in questo caso non c'è particolarmente relazione basta chiamare T1, T2, T3 quindi sono i pezzi di scacchiera di arrivo e sono vedete semi trasparenti poi abbiamo i gettoni che si chiamano con i termini 8, poi 7 e così via sotto i gettoni, cioè sotto queste cornici abbiamo degli altri pezzi tipo quelli che però sono chiamati S8 perché questo? perché in pratica io voglio mettiamolo la luce del sole a mezzogiorno io voglio praticamente che questo oggetto quindi se lo sposto adesso vedete sotto c'è una la sua posizione di base che è un pezzo che si chiama S4 S4 vuol dire sorgente cioè partenza, start del pezzo 4 mentre invece il pezzo 4 appunto si chiama 4 quindi il 4 sa di dover andare nello start 4 quando si fa il reset di tutto quindi facciamo il reset e quindi abbiamo questo effetto direi che più o meno è tutto e quindi ci vediamo la prossima volta grazie a tutti